Giorgia Meloni in vacanza con la figlia in Puglia. E Andrea Giambruno? Giorgia Meloni si concede una breve vacanza con la figlia Ginevra, nata dall'Unione con il giornalista Andrea Giambruno. La Premier ha scelto un posto a lei molto caro, la Puglia, in particolare la Valle d'Itria. Lì dove ha deciso di organizzare anche l'ultimo G7, scegliendo la struttura di Borgo Ignazia. Giorgia Meloni potrebbe arrivare in Puglia nella seconda settimana di agosto. Lo scorso anno aveva trascorso alcuni giorni nella masseria di Ceglie Messapica con la figlia e il compagno, prima della rottura. Un luogo dove si può trovare pace e tranquillità tra traulivi secolari, masserie e muretti a secco. E Andrea Giambruno? Come scrive l'edizione di Bari di Repubblica, non è espluso che l'ex compagno della Premier e padre di Ginevra possa raggiungerle per trascorrere qualche giorno insieme. Non sarebbe la prima volta che la famiglia sceglie di passare feste e momenti di condivisione insieme nonostante la fine del rapporto. Giorgia Meloni in vacanza in Puglia, una regione a cui è molto legata. La storia tra i due si è interrotta bruscamente l'autunno scorso dopo il fuorionda del giornalista con le colleghe della trasmissione di Rete4, da lui condotta. Anche se adesso si rincorrono insistentemente voci di un possibile riavvicinamento. Molti sono gli amici e i compagni di partito pugliesi a cui la Premier è legata. Come i parlamentari baresi Marcello Gemmato e Filippo Melchiorre. Giorgia Meloni ha mantenuto rapporti stretti anche con Azione Giovani, l'organizzazione giovanile di cui è stata presidente nazionale. Molti dei componenti sono di origine pugliese. Ma con chi trascorrerà le vacanze Giorgia Meloni? È probabile che con lei possano esserci anche la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, ovvero le persone con cui ama trascorrere il tempo quando è libera dagli impegni istituzionali. La Premier si è concessa qualche giorno al mare con la figlia Ginevra. Intanto il settimanale diva e donna ha immortalato Giorgia Meloni in versione estiva e madre amorevole con la piccola Ginevra. Per la Premier si tratta della prima estate da single dopo la fine della relazione con Andrea Giambruno. Nelle foto pubblicate appare rilassata e felice di trascorrere del tempo con la figlia. In un'intervista rilasciata a Diletta Leotta per il podcast Mamma Dilettante, ha dichiarato, la maternità rimette a posto tutto, cose che ti mettevano l'ansia. Quando diventi madre dici vabbè si fa. Alla fine torni a casa, lei sta bene e dici, il resto lo gestisco. Per cui sì, è una cosa che mi ha dato tantissima stabilità, mi ha centrato. Sono diventata più pragmatica, più realista, più attenta alle cose che hanno un senso. I sensi di colpa non li gestisci. Il problema è che il senso di colpa è tremendamente diseducativo. Perché tu provi a superare il tuo senso di colpa facendo l'unica cosa che non devi fare, assecondando, ha aggiunto. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.